Buonasera a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di Estate in Appenino. Ci troviamo all'ingresso della festa della birra di Monfestino, ne parleremo nel corso di questa puntata. Iniziamo però la trasmissione di oggi, la puntata del giovedì svelando i trucchi e i segreti di Stella Tagliazucchi che è una giovane ragazza di Pavullo, blogger ormai famosa in tutto il mondo ma che addirittura ha vinto un concorso per il trucco cinematografico. Ci accompagna alla sua scoperta, Davide Scarabelli. Cari amici di Estate in Appenino, oggi siamo in compagnia di Stella Tagliazucchi. Chi è Stella Tagliazucchi? È una giovanissima emergente che ha studiato e lavorato nel mondo del make-up. Oggi ci racconterà il suo percorso. Salve a tutti, dunque si diventa make-up artist attraverso delle scuole professionali che sono abbastanza diffuse negli ultimi anni in Italia. Io ho studiato a Bologna, dalla professoressa Balletti alla professoressa Sacco, che sono due delle più grandi e famose truccatrici italiane. E tramite un percorso che ci ha aperto molte prospettive lavorative sul teatro, il cinema, gli effetti speciali, il beauty e la fotografia, abbiamo, insieme alla mia classe ovviamente, conseguito un diploma che ci ha qualificato come truccatrici. In inglese make-up artist è anche un po' più qualificante make-up artist al posto di truccatrice. Stella, come mai questa scelta? Ho fatto diventare un mestiere una passione che rincorrevo da tanti anni, soprattutto per il fatto che ho fatto degli studi classici. Quindi poi ho conseguito un diploma che non mi soddisfaceva completamente. Ho iniziato un'università che per tristezza immensa di mia mamma non ho concluso, perché ho trovato questa scuola che mi ha permesso proprio di esaudire il mio sogno di diventare una professionista del trucco. Ma tu non sei solo una make-up, sei anche una grazie appassionata delle nuove tecnologie virtuali. Raccontaci. Ho vissuto, vivo gran parte del mio mestiere soprattutto sui social network. Ho vissuto lo sviluppo di Twitter negli ultimi anni come protagonista. Sono diventata influencer e blogger per alcune aziende famose che richiedono appunto pareri a noi che siamo diventati importanti, gli specchietti sul loro pubblico, ci richiedono pareri sui prodotti, ci richiedono articoli, recensioni, ci invitano ad eventi. Quindi riesco tramite questo social network che era nato, diciamo come tutti i social network, come può essere Facebook o Instagram, come un perditempo, è diventato appunto una professione, un lavoro tramite blog, portali, fotografie. Si conoscono tante figure professionali appunto tramite questi social network e queste collaborazioni tra aziende. Si riescono a conoscere anche tante persone fuori da Pavullo e fuori dall'Appennino Modenese che aprono anche possibilità di lavoro molto ampie. Cara Stella, so che hai avuto dei riconoscimenti nazionali, internazionali, raccontaci. Uno ad esempio è il Twitter Award nel 2012, è un premio che hanno organizzato i fondatori italiani di Twitter, quindi gli influencer più importanti di Twitter per la parte italiana. Ogni anno è una grandissima manifestazione, una festa. Si stabiliscono delle categorie e tutti gli utenti di Twitter possono votare chi per loro, per la categoria scelta, è più meritevole del premio. Io l'ho vinto nel 2012 per fashion e stile, quindi proprio nella mia categoria. L'anno scorso sono arrivata seconda, ma mi ha battuto Clio Zammatteo che è famosissima anche oltre l'Italia, è internazionalmente famosa, quindi va benissimo così. E quindi questo è stato uno dei più importanti anche proprio a livello dei social network e di influenza per le nuove tendenze. I tuoi progetti futuri quali sono? Allora, i progetti futuri è sicuramente continuare su questa strada, crescendo ovviamente sempre di più, e anche sviluppare in maggior parte quello che mi hanno insegnato, quindi proprio il lavoro di truccatrice, anche in tutti gli ambiti su cui mi hanno dato le capacità. E in più, è stato un azzardo per me cominciare a fare questo mestiere, nel senso che vengo da una famiglia che ha già un'azienda avviata, e quindi potevo eventualmente avere le spalle coperte. Diciamo che nel momento storico che attraversiamo, soprattutto a livello lavorativo, e soprattutto da noi giovani, è utile provare a conquistarsi una fetta nuova di lavoro e di imprenditoria che comprende ovviamente anche queste nuove tecnologie. Iniziamo ora ad occuparci di enogastronomia, naturalmente la delizia delle nostre montagne. Enogastronomia nel Bolognese, con un gruppo di persone che veramente cucinano e riservano il piatto a chilometri zero. Negli ultimi anni hanno assunto sempre maggiore rilevanza, sia economica che culturale, i prodotti tipici e la riscoperta delle tradizioni legate all'enogastronomia del territorio. Siamo andati a trovare due ristoratori che fanno cucina con prodotti tipici a chilometri zero. Noi siamo Hotel Santori a Porretta Terme, un'azienda che è dal 1973 presente sul territorio, che ha cercato sempre di valorizzare il prodotto tipico, quindi il prodotto locale, per cui collaboriamo con 30 aziende del territorio, con tutti i prodotti biologici, marmellate, salumi, formaggi, compreso la birra e il vino, che è l'ultimo, il morastello, che è frutto del lavoro di qualche anno, adesso è distribuibile, bevibile anche nei locali. Il lavoro che cerchiamo di fare è proprio di valorizzazione del territorio, puntando proprio sulla collaborazione con le aziende locali, proprio per promuovere l'Aprino che ha risorse molto importanti e ha i prodotti che valorizzano proprio il nostro territorio, grazie a una serie di collaborazioni proprio tra aziende che sviluppano insieme l'idea di collaborare. È tanto vero che facciamo questi mercati anche in collaborazione con il ristorante, il Bassotto, per proprio promuoverci e far vedere che c'è una possibilità, che le aziende ci sono, volentrose, stanno crescendo e stanno cambiando. Quindi noi speriamo che presto l'Apennino sia più visitato e visitabile, ci mettiamo sulla buona volontà e continuiamo il nostro lavoro. La collaborazione fondamentale anche per questo progetto va comunque a Vivi Appennino che ci ha aiutato nel percorso di aggregazione, fa le varie aziende, per cui piano piano grandi novità e grandi sorprese del territorio. Per le nostre preparazioni vengono usati tutti i prodotti a chilometro zero, siccome abbiamo la fortuna di essere, noi ci sentiamo già a metà tra l'Emilia e la Toscana, anche se effettivamente siamo ancora in Emilia, prendiamo spunti da ambe le regioni, guardiamo molto alla provenienza del prodotto perché ci piace mantenere la tradizione, ci piace utilizzare prodotti locali, molte volte nasce talmente un discorso di amicizia anche tra il fornitore che non si cambia più e quindi siamo fieri di usare prodotti a chilometro zero e dove è possibile farli proprio noi con le nostre mani, come nel caso della pasta fresca o della carne che è appunto della nostra azienda agricola. Queste sono alcune delle nostre preparazioni, questa è la nostra tagliatella fatta in casa, in questo caso è a base di farina e farina di ceci, abbiamo le nostre salamelle fatte dalla nostra macelleria che è anche un'azienda agricola con tutte di sapori diversi, dal parmigiano al tartufo, ai funghi porcini, al barbera e quant'altro, le classiche tigelle montanare con il pesto a fianco, abbiamo la nostra carne tagliata, fiorentina, questo è più un taglio che va in Toscana però è gradito anche qua, e vari tagli del maiale, salsiccia, la bracciola con l'osso e il capocollo, il nostro formaggio, abbiamo un misto tra pecorino e mucca, il parmigiano reggiano e un pecorino di grotta, la nostra pasta fatta in casa, questi sono ravioloni, arlecchino, ripieni di ricotta e erbette con borre salvia, e questi ultimi sono tortelloni all'ortica, ripieni di ricotta e ortica. Tre giorni di festa, tre giorni di valdoria, tre giorni all'insegna della birra, stiamo parlando della festa della birra di Monfestino, quest'anno che non si svolge la rievocazione storica, ormai tradizionale delle nostre montagne, un gruppo soprattutto di giovani di Monfestino ha deciso di organizzare nel mese di luglio una festa della birra capace di attirare i giovani, ma non solo, anche le famiglie, anche chi è un po' più maturo, capace soprattutto di dare vita ad un borgo meraviglioso che chiede soltanto di essere visitato. Per tre giorni interi tutti insieme per questa festa della birra che va a rivitalizzare il centro di Monfestino nell'anno in cui non c'è la rievocazione storica. Sì, abbiamo pensato quest'anno di fare a luglio la festa per cercare di portare a Serra i più giovani possibili e in questo contesto bellissimo di Monfestino abbiamo pensato che fosse la location migliore per poter fare festa ma anche, diciamo, non coltura, ma comunque far visitare i nostri posti a Serra Mazzoni che secondo me sono molto belli. Ecco, infatti il panorama c'è tutto, è dato da questo bellissimo castello ma c'è anche tanta carne sulla griglia. Sì, noi ci piace ancora cucinare tradizionalmente con le braci, salsicce e costaiola sono il nostro pezzo forte e c'è molto a lavorare perché si fa fatica, però insomma è una bella soddisfazione. Tre giorni di festa della birra qui a Monfestino, tanti giovani, tanto divertimento e il mangiare. Sì, è vero, tanti giovani e anche signori abbastanza adulti che si divertono comunque. È bello vedere i giovani che sono da questa parte del bancone, quindi siete impegnati a dare una mano alla comunità. Esatto, sì, ci divertiamo anche, tanto. Anche perché sabato sera magari qualcuno farebbe qualcos'altro. Che baldodi, esatto. Stiamo lavorando e va benissimo. Ma tra l'altro tutti i ragazzi giovani da questa parte del bancone vi state dando una mano per Monfestino? Certo, tutti stiamo dando una mano per Monfestino. Tutto volontario? Tutto volontariato. I fustini di birra ci sono, quanto prevedete di darne fuori? Il più possibile. Vogliamo fare ubriacare tutti. Una serata diversa, una serata in compagnia della famiglia, una serata in compagnia degli amici alla festa della birra di Monfestino. È bello vedere tanti giovani lavorare per la propria frazione, per renderla vivibile, vissuta in un contorno che chiede soltanto di essere visitato. Sì, questo sì. Monfestino diciamo che è la perla che abbiamo noi nel comune di Sarmazzoni. Abbiamo la fortuna di avere un gruppo di ragazzi qua di Monfestino che si prestano al volontariato. Tutte queste feste che loro fanno le usano per fare propaganda, per varie feste che producono ancora un'altra volta, come la festa medievale. Quest'anno hanno deciso di fare la biennale, quest'anno è l'anno fermo, però tutto quello che loro, il ricavo che hanno in queste feste, fanno sempre delle donazioni. Come quest'anno, ad esempio, i ragazzi di Monfestino e gli alpini, sempre di Monfestino, hanno donato 10 lavagne lim per le scuole. Quindi loro non lo fanno a scopo di lucro, ma proprio sono dei ragazzi eccezionali, tutto il gruppo qua di Monfestino. Il volontariato è alla base del grosso, diciamo così, delle iniziative che la nostra montagna oggi, con la situazione economica attuale in cui versano tutti gli enti locali, ma non solo gli enti locali, può offrire. Sì, guarda, sinceramente, se non cominciamo ognuno di noi a pensare di dare un po' del nostro ego agli altri, penso che non si possa più andare avanti. Con tutta la crisi che c'è in questo momento, è essenziale che ognuno di noi partecipi al volontariato, a organizzare feste e tutto, perché ne abbiamo bisogno. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Estate in Appennino, particolarmente incentrata su quella che è la delizia delle nostre montagne, cioè il nostro cibo, cibo a chilometri zero, cibo che viene e che viene consumato nelle nostre montagne. L'appuntamento con Estate in Appennino è per domani sera, quando al mio posto ci sarà Anna Laura Mucci, io vi ricordo che potete seguire questa e le altre puntate sul nostro sito internet all'indirizzo www.appenninonews.it e vi ricordo che siamo presenti anche su Facebook, basta seguire la nostra pagina per scoprire dove saremo nelle prossime settimane, ma soprattutto anche per darci suggerimenti, per seguire le vostre feste, le vostre sagre, i vostri avvenimenti in giro per l'Appennino Emiliano Romagnolo. www.appennino.it www.appennino.it